Il Museo Archeologico Regionale di Gela questa mattina ha aperto le porte ad una delegazione italiana ed ungherese nell'ambito del progetto dell'Istituto Ettore Romagnoli From My Homeland to the end of Europe edizione 2016-2017. Ad accogliere gli studenti e i professori italo-ungheresi sono stati il sindaco Domenico Messinese e il direttore del Museo Ennio Turco. Oggi abbiamo la fortuna di ospitare dei ragazzi di Dunarasti, una splendida città ungherese che sono venute a trovarci, a vedere la nostra città, sia vivendola, perché sono qua da diversi giorni, e sia ammirando quelle che sono le nostre perle come il museo, l'acropoli e le varie bellezze che ha il territorio. Non saranno sicuramente in grado di vederle tutte, ma potranno comunque portare questo messaggio nel loro territorio. E' chiaro che è un progetto di scambio, infatti ci sono stati dei ragazzi italiani che sono andati a vedere le bellezze ungherese e così forse si comincerà a parlare di un'Unione Europea che va oltre quella economica, ma un'Unione di popoli. Stiamo portando avanti tanti progetti con le scuole, per esempio alternanza scuola-lavoro, abbiamo cinque istituti sia del territorio di Gela ma anche di fuori, stiamo portando avanti questo discorso della conoscenza delle attività che si fanno all'interno del museo, tra cui la promozione, perché è fondamentale. Io ricordo prima a me stesso ma poi a tutti che il museo fa conservazione e poi promozione. Ma per fare conservazione e promozione tutto passa attraverso la conoscenza. E quindi abbiamo oggi l'occasione di avere questi ragazzi che vengono da fuori per far conoscere quello che è il nostro territorio, ma non solo dal punto di vista quantitativo, ma di più dal punto di vista dell'essenza della nostra identità. Sotto la guida della coordinatrice del progetto Tiziana Finocchiaro e con la collaborazione di Rita Maniglia e Claudia Gennuso, gli studenti italiani hanno guidato gli ospiti del partenariato permanente alla scoperta dei tesori del museo utilizzando la lingua inglese. La giornata di oggi ha un aspetto molto scientifico e informativo, se vogliamo dire così. I nostri ragazzi sono stati preparati per l'aspetto informativo relativo al museo dalla professoressa Gennuso. I bambini hanno preparato delle presentazioni delle varie vetrine che illustreranno in lingua inglese ai loro compagni coetanei. La professoressa Maniglia ha curato l'aspetto scientifico della mattinata e li condurrà attraverso la zona archeologica, il parco archeologico, alla ricerca di piante specifiche della macchia mediterranea che verranno poi raccolte e collezionate in un erbario che verrà sviluppato successivamente a maggio durante il successivo incontro di progetto in Ungheria. L'Istituto Ettore Maiorana di Gela, palesso Fermi, da oggi ha un campo di calcetto. Sorge incontrata Marchitello. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina. Per l'occasione si è svolto anche un triangolare di calcetto tra le squadre dello stesso istituto. C'è stata anche un'esibizione delle alunne del liceo artistico e dei servizi sociali. In genere quando si realizzano delle strutture sportive poi si ricedono alle società che se ne occupano in maniera autonoma. Noi invece abbiamo pensato di condividerla con tutte le altre scuole di Gela mediante dei tornei che indiremo a breve che coinvolgano tutti i ragazzi delle superiori anche perché vorremmo che venisse superata quella barriera che normalmente si crea fra una scuola e l'altra. Noi vogliamo superarla e creare l'amicizia fra i ragazzi di tutte le scuole. Qualunque attività motivante e gratificante allontana i ragazzi dalla strada e insegna anche loro le regole del vivere civile come lo sport perché uno sport non si può praticare se non si conoscono le regole e insegna anche a rispettare l'altro. È stata realizzata con dei fondi europei che quando io sono arrivata temevamo fossero andati persi. pensavamo che ormai nonostante la gara fosse stata espletata e tutto quanto che ormai i tempi fossero scaduti invece siamo riusciti a riacciuffarli nel vero senso della parola questi fondi europei che erano tra l'altro di entità notevole e non solo abbiamo creato questo campo di calcetto che è veramente bello ma abbiamo realizzato un grandissimo impianto fotovoltaico che si trova sul tetto della struttura principale abbiamo realizzato la climatizzazione delle aule e messo a norma tutto l'impianto elettrico ciò è stato possibile grazie alla sinergia con i tecnici della ex provincia l'attuale libero consorzio che ci hanno supportati dal primo momento e li ringrazio veramente insieme al commissario straordinario perché senza il loro supporto tutto ciò non sarebbe stato possibile Alla cerimonia di oggi la presenta anche il vice sindaco Simone Siciliano Una nuova struttura sportiva all'interno di un blesso scolastico tutte queste strutture servono ad avvicinare i giovani allo sport allontrandoli da devianze di un paese molto vasto che deve recuperare sicuramente quel vuoto infrastrutturale di strutture sportive che possono fare gelare un riferimento sicuramente per il comprensorio Per quale motivo si è dimesso in tutta sincerità? Per sopraggiunti impegni di carattere personale già ieri sera ho rappresentato al sindaco la necessità di rassegnare le mie dimissioni per curare il mio lavoro e i miei affari personali Ma questo impegno non ce l'aveva anche prima quando firmò proprio la carica che le diede al sindaco? Sì, senza dubbio ho cercato di organizzare la mia attività in maniera da poter dare il meno fastidio possibile ai miei clienti ma gli impegni sono talmente tanti che non si riesce a dare istanza insomma alle varie richieste che arrivano invece dalla mia attività professionale A tutte le critiche che le sono piovute addosso ci rivediamo agli screzzi con l'architetto Tuccio e gli ombrellini in corso Vittorio Emanuele li hanno fatto male e l'hanno poi indotta anche a dimettersi? No, no assolutamente no i problemi e le diatribe di carattere politico critiche strumentali spesso mi hanno dato anzi invece una maggiore forza per poter rimanere in carica e concludere con un grande successo l'estate gelese con oltre 90 eventi in 60 giorni o tutte le operazioni effettuate con la Polizia Municipale sia sulla viabilità che per quanto riguarda l'ufficio formazione che rimane un'istituzione creata insomma da mio impulso che ha dato molta soddisfazione a me personalmente tutta l'aggiunta e sarà utile alla città Ci sono stati anche alcuni consiglieri comunali che hanno chiesto le sue dimissioni qualche settimana dietro? Ho già all'inizio, proprio all'inizio del mio incarico abbiamo avuto una seduta di consiglio comunale monotematica su di me ma come si dice insomma in questi casi tanto nemici e tanto onore Lei fino a qualche minuto dietro è stato assessore anche allo sport le chiedo a che punto sono i lavori al Vincenzo Presti I lavori al campo Vincenzo Presti sono conclusi già, io ho lasciato il mando arboso del Vincenzo Presti completamente ristrutturato anche grazie all'aiuto del collega e amico Flavio Di Francesco con cui c'è stato un grande lavoro di riportare in auge questo campo e lo stadio Vincenzo Presti anche i gazebo, i box della stampa sono stati riparati e adesso tutto sta nella gestione, nella gestione del campo Che voto si dà in questa esperienza? Se fosse un componente esterno io mi darei nove perché in tutti gli ambiti della mia delega sono riuscito ad ottenere dei grandi risultati anche la protezione civile ha avuto il com da parte del prefetto è stato uno dei comuni della provincia di Caltanissetta in cui è stato riconosciuto il centro operativo misto oppure tutte le attività di prevenzione che abbiamo fatto ma che non si sono viste fino a questo momento la polizia municipale rimane il mio cuore dove ho trovato dei validi dipendenti comunali sono stati sempre leali e ligi al dovere ma sono stati fantastici anche quelli del settore sport e turismo e spettacolo su cui abbiamo cercato proprio quest'anno di inserire il nostro comune nelle mete turistiche dei comuni limitrofi Non è sempre esagerato? No, non è esagerato Il più di un'occasione hanno chiesto all'assessore ai servizi sociali alla giunta quali e quante somme sono destinate in bilancio a favore dei diversamente abili e delle loro famiglie essendo prossimi alla discussione del documento finanziario e non avendo notizie della programmazione chiediamo lumi e certezze e quanto esigono il presidente del consulente legale dell'associazione H Maria Concetta Maganugo e Paolo Capigi La giunta comunale, dicono, deve prestare attenzione per questo si chiede di sapere qual è il corrispettivo impegno spesa ancora prima che il bilancio di previsione approdi in consiglio per la discussione e l'approvazione L'associazione H vuole sapere gli importi dei fondi destinati al servizio di trasporto speciale, scolastico e riabilitativo quello destinato al servizio per l'assistenza igienico-sanitaria accudienti nelle scuole dell'obbligo per gli alunni non autosufficienti l'importo delle somme destinate al personale specializzato e agli assistenti della comunicazione i fondi destinati alla incentivazione e la pratica dello sport dei diversamente abili ed ancora i fondi indirizzati al servizio di aiuto domestico agli infra 65 anni non autosufficienti e i fondi destinati agli anziani ultra 65 anni non autosufficienti La Giunta Comunale rilancia l'associazione H deve dirci qual è l'importo delle somme destinate alle case famiglie, comunità alloggio, case protette e centri diurni anche con riferimento agli importi che l'ente eroga a favore dei soggetti collocati fuori provincia e fuori regione Nella nota Maganunco e Capici inoltre chiedono di sapere se e quali provvedimenti l'amministrazione intende adottare nei confronti di privati e organizzazioni sociali che pur occupando strutture comunali non offrono reali e concreti servizi alla collettività L'associazione H sottolinea che ultimamente sono giunte alla mentele di parecchi genitori che ad oggi non hanno ricevuto per i loro figli il servizio di trasporto scolastico quello di accudienza e quello dei servizi specialistici previsti dalla legge 104 Non escluso che l'associazione H si rivolga alla Procura e alla Corte dei Conti Fino a lunedì 10 ottobre prossimo nella sala della Clinica Santa Barbara di Macchitella a Gela è possibile visitare la mostra di arte con pitture e fotografie inedite del collezionista Franco Pardo L'iniziativa è del Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo L'idea di promuovere questa mostra è perché io sono qua in questa clinica da circa 4 mesi e che sono arrivato che dovevano mettermi in una tomba e grazie al dottor Barberi e a tutti i suoi componenti e sono adesso all'impiede per andarmene via e l'idea mi è nata per ringraziare la struttura della Clinica Santa Barbara di tutto quello che hanno fatto per me e ho voluto omaggiare di questa mostra Siamo lietissimi che le cose vanno avanti in questa maniera e io sono onoratissimo che ho partecipato con delle mie piccole opere di acquarello per abbellire un po' quel poco che potrebbe essere quindi viva la felicità delle cose in sostanza Le immagini raccontano i festeggiamenti della Pasqua in città e si completano con personaggi e frammenti della Gela Antica dove sono catturati vicoli ed edifici oramai cancellati dal progresso Ho conosciuto il signor Pardo e ogni giorno è una nuova conoscenza perché mi stupisce ogni giorno che parlo con lui perché è un profondo conoscitore della storia di Gela è un profondo conoscitore di tanti usi e abitudini della Gela passata e che mi tramanda ogni giorno in un colloquio io lo vengo a visitare ma lui mi racconta tutta la storia mi rende più adotto delle storie della nostra Gela e naturalmente la mostra è fruibile per tutta la gente un amico a quattro zampe a scuola al fine di far conoscere e riconoscere il ruolo del cane come compagno di lavoro dell'uomo è l'iniziativa che si svolta questa mattina nell'istituto scolastico Ettore Romagnoli di Gela alla presenza dell'unità cinofila della Polizia di Stato Noi siamo impegnati su una fascia di età molto particolare che è quella dei bambini che va dai 11 ai 13 anni che contempla una serie di problematiche talmente grandi talvolta pesanti da gestire per l'individuo per le famiglie che noi come scuola e come agenzia formativa non possiamo che metterci a fianco delle famiglie e delle altre istituzioni proprio per quel processo di cui le parlava vale a dire la ricerca di una condizione di benessere nelle relazioni nella comunicazione nella gestione della propria individualità in rapporto a quella degli altri che è necessaria per diventare poi delle persone serene equilibrate capaci di vivere nel mondo e questo lo dico non solo per i bambini che hanno tante possibilità di affermarsi nella vita ma anche per i tanti altri bambini speciali ma comunque straordinari che a fronte di difficoltà di varia natura riescono comunque a fare un loro percorso scolastico e quindi anche un loro percorso di vita la giornata di oggi è dedicata ad una illustrazione di come avviene in effetti ricercata in questo caso la sostanza stupefacente da parte di una specialità della Polizia di Stato che appunto si occupa di attività antidroga e questo è un esempio un esempio soltanto di come le specialità sviluppano delle specifiche attività anticrimine in questo caso appunto dedicate a questo particolare settore che è l'attività antidroga ma il nostro intento è quello di sviluppare una maggiore vicinanza con gli alunni propedeutica a incentivare anche il loro dialogo verso le forze dell'ordine a sentire una maggiore vicinanza e per maggiore vicinanza intendo la libertà che ciascuno studente senta dentro di sé di rivolgersi alle forze dell'ordine quando ne ha più bisogno il progetto rientra nelle attività per l'area a rischio 2016 abbiamo sempre come obiettivo principale quello che è educare i ragazzi alle relazioni uomo-animale in maniera specifica quest'anno parleremo di quello che è il ruolo del cane come compagno di lavoro dell'uomo per questo motivo abbiamo avuto diciamolo che di diversa associazione quindi diversi professionisti i primi dei quali verranno l'unità cinofila della polizia di stato di Catania che ci parlerà quindi dell'addestramento delle cane quindi come compagno di lavoro dell'uomo del cane poliziotto nelle diverse specialità nelle diverse specialità poi avremo anche l'associazione amici di Mita sempre nel 21 ottobre se non voglio sbagliare ho le date chissate il 21 ottobre è un'associazione di ispica che si occupa dell'addestramento dei cani in aiuto del diversamente abile della pet therapy fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città oggi domenica dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fondi di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto gela alla città metropolitana di catania si parla tanto dell'emigrazione nell'area etnea ma oggi giovedì sottobre di concreto c'è poco o nulla a maggior ragione dopo la decisione assunta qualche tempo dietro dall'assemblea regionale siciliana che ha bocciato i decreti legge che dovevano solo formalizzare il passaggio territoriale della città del Golfo di Piazza Merina e di Niscemi sulla vicenda oggi è intervenuto il segretario cittadino di Fratelli d'Italia alleanza nazionale Gaetano Minardi il passaggio alla città metropolitana di Catania dice Minardi è importante e porterà numerosi vantaggi noi siamo fermamente convinti che l'adesione alla città metropolitana possa essere un elemento di sviluppo per il nostro territorio c'è molto poco in giro siamo stati ingannati e illusi da quelli che sono i politicanti di turno i quali hanno promesso mari e monti hanno promesso sviluppo hanno promesso porti aeroporti hanno promesso riconversioni della raffineria ma a oggi nulla e niente di tutto questo quindi riteniamo che l'adesione a Catania che certamente è una città molto più economicamente diversa dalla realtà nissena possa rappresentare un elemento di sviluppo per le nostre popolazioni certo poi dipende dipende dai rappresentanti che Gela riesce ad avere e quello che riescono a contare in un contesto come la città metropolitana di Catania Gela ha speso quasi 200 mila euro per promuovere il referendum popolare del 2014 in tanti hanno detto sì all'emigrazione da Caltanissetta da allora ad oggi però non è cambiato nulla i nostri deputati o i nostri rappresentanti nei vari parlamenti dovrebbero essere quanto meno rispettosi di quella che è la volontà popolare se no rischiamo di valere quanto il 2 di coppe già contiamo poco per questi signori ma se non tengono conto nemmeno di un referendum popolare andiamo proprio male il segretario di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale si rivolge direttamente all'amministrazione comunale noi dobbiamo capire capire l'amministrazione comunale se è d'accordo e mi pare che Messinese e la sua giunta sono concordi a questa adesione di progetto all'area metropolitana di conseguenza devono rispettare tutti gli atti inerenti a questa richiesta La giunta comunale di Gela non è attenta e fa nulla nel settore agricolo se invece si parla di Eni sottoscritti accordi e fissa riunioni lo dice il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle nel programma dei grillini il comparto agricolo era da attenzionare ma l'amministrazione non ha alzato un dito e possiamo andare a vedere quali sono i propri problemi che il Movimento 5 Stelle tratta all'interno del programma che abbiamo presentato un anno fa che sono la sicurezza nelle campagne che viene a mancare il problema del limo il problema dell'acqua il problema dei mercati agricoli tutti i problemi che il Movimento 5 Stelle durante la campagna elettorale in effetti ha messo in evidenza la cittadinanza e dove si è promesso di risolvergli questi problemi E perché non si è intervenuti? Purtroppo a distanza di un anno anche quando il sindaco dice e l'ha detto anche in aula consigliare che lui in questo anno ha espletato il programma il Movimento 5 Stelle questo francamente non è vero perché tutti questi punti non sono stati toccati dall'amministrazione Dunque è un problema riconducibile solo alla Giunta Comunale che non ha fatto nulla? Molte cose sì perché la sicurezza per quanto riguarda l'amministrazione almeno nel programma c'era scritto che potevamo benissimo interagire con gli studi di vigilanza anche con il consorzio di bonifica cercare di fare qualcosa anche attraverso la prefettura per quanto riguarda Limo il proprio sindaco dai parchi diceva che le tasse vengono pagate per dare dei servizi agli agricoltori però per quanto riguarda le tasse che gli agricoltori gelesi pagano da circa 20 anni e dobbiamo anche ricordare che Limo si paga solo a Gela nella provincia di Caltanissetta di servizi non se ne vede nemmeno uno Gela soffre più degli altri comuni perché abbiamo subito la chiusura della raffineria e quindi l'unico settore che oggi occupa più di 5-6 mila persone il settore dell'agricoltura ma oggi è in cinocchio quindi nel momento in cui tutte queste problematiche vanno ad affliggere il settore non è possibile rilanciarlo Il Movimento 5 Stelle interviene anche sul problema dell'acqua per uso irriguo Per quanto riguarda il problema della siccità e dell'acqua che manca nelle campagne in questi giorni non è solo un discorso meteorologico perché non piove ovviamente quando non piove i problemi escono fuori ma anche perché c'è una brutta gestione del Consorzio di Bonifica che quando le dighe potrebbero invasare invece non invasano e l'acqua va a mare in questo l'amministrazione teoricamente potrebbe fare poco perché non è un discorso dell'amministrazione ma potrebbe politicamente invece fare pressioni a Palermo e risolvere quelle problematiche politiche che ci sono tra la Regione tra il nostro Presidente e il Consorzio di Bonifica Un vero e proprio sgrigno giace nei fondali marini di Gela giace infatti per la mancanza di finanziamenti regionali veri e propri gestimenti culturali che potrebbero rappresentare un volano per il turismo per l'economia e per l'occupazione giovanile del territorio non è concepibile che la Regione rimanga ancora sorda alla tematica del bene culturale di Gela in particolare non si vuole capire che potenziando l'attività archeologica gelese ne trarrebbero frutto la stessa città e la Sicilia intera e quanto sostiene Nuccio Mulee dell'archeoclub Gela che ha preso carta e penna e ha scritto a varie istituzioni non si interviene perché a mio modo di vedere non si capisce l'importanza di quello che si potrebbe trovare nel fondale del mare di Gela ultimamente ho letto un articolo si riferiva al 2000 dove un archeologo francese con dei sonar e delle onde magnetometriche è riuscito a mappare una zona canopica del Nilo prospicente del mar Mediterraneo dove ha ritrovato con questo tipo di mappatura una città sommersa Eracleion vedi caso la omonimia con la nostra città che nella fase di fondazione si chiamò Eraclea per e proprio quindi una coincidenza e quindi mi chiedo io perché non si riesce a mappare questo fondale che ha dei tesori sommersi ma sono tesori della seconda guerra mondiale da una parte e di archeologia greca dall'altra parte ora immaginate un po' cosa potrebbe esserci in questi fondali già sono stati ritrovati tre navi ci sono croniche storiche che parlano di aerei abbattuti qualcosa come 37 aerei americane battuti dalla stessa concia aerei americana per fuoco amico carri ammati sommersi armi di qualsiasi tipo quindi perché non si riesce a mappare allora io ho scritto a tutta una serie di istituzioni dalla regione alla soprintendenza del mare a quella di Caltanissetta al museo al comune e alla sezione marinostrum di Archeo Club d'Italia che si occupa proprio di queste situazioni qui quindi perché sinergicamente non si riesce a realizzare questa collaborazione e quindi avere dei finanziamenti perché non sarebbero non ci vorrebbero molto denaro per fare questa mappatura e quindi sapere cosa c'è nel fondale del mare di Gela e recuperarli piano piano con altri finanziamenti possibilmente dell'Unione Europea perché questa situazione non è solamente appunto non ha interesse solamente culturale archeologico ha anche interesse economico ed occupazionale immaginate voi che cosa significherebbe andare a realizzare in Sicilia a Gela in particolare un museo dello sbarco che metterebbe nel suo interno tutti questi reperti una cosa eccezionale che sarebbe ai primi posti a livello mondiale a app sì Grazie a tutti.